Musica Musica Ed eccoci qui ragazzi Imbarcati per Favignana Non manca molto E' stata lunga Un caldo infernale Ma sapete che da Misa de Box Non si ferma qui Appena sbarcati Ci aggiorniamo Musica Ma quanti kebab di tonno ti sei mangiata quindi? Allora diciamo che abbiamo iniziato con una colazione tipica Pane Consato Consato ragazzi Un trans o un kebab di tonno Quindi uno? L'abbiamo mangiato? Due? Due perché l'hai mangiato anche te Comunque ragazzi avete capito? Abbiamo raggiunto la meta Passiamo a Favignana Abbiamo preso possesso Nella nostra abitazione Abbiamo incontrato già Giuseppe Gianno Oggi è domenica Quindi giornata di rest Di recovery Di sole Di cibo Come avete capito noi L'integrazione Ci teniamo E domani Inizieremo le classi Alla crossfit Ega di Mett'ata ragazzi Finalmente dopo l'intervista Con Giuseppe Gianno Siamo qui Crossfit Ega di Prima classe del lunedì Cosa combineremo? Non lo sappiamo Perché io e Carlo In due Non facciamo una persona sana Ma vedrete Che ce la faremo Che ce la faremo Che ce la faremo Che ce la faremo Pure Pure al supermercato E quando si integra Si integra bene Leggeri ragazzi Sono le due e mezza Circa del pomeriggio Quindi non c'è nessuno Il sole è alto Ma un po' Di pane kunzato Piuttosto che arancini Piuttosto che tonno Ragazzi Vino di qui Il tonno Dovete mangiare Allora Questo è il warm up Le skills che oggi Andremo ad affrontare E il wood Del giorno Allora Allora terzo giorno qui a CrossFit Egadi parlo sottovoce perché sta iniziando l'altra classe la classe delle 7 alle 8 io e Carlo abbiamo appena finito la classe delle 6 alle 7 oggi giornata di corsa ragazzi è trastore proprio si è sudato l'inverosimile comunque tutto bene qui sfondo del rack bellissimo una sensazione bellissima può dare a cielo aperto Carlo è lì che fa dei lavori accessori io faccio questo piccolo resoconto della giornata insomma tutto procede bene ci aggiorniamo nei prossimi giorni e ore grazie a tutti grazie a tutti quarto giorno pausa pre-workout come vedete ci stiamo ricaricando a dovere perché chissà cosa ci ha preparato Giuseppe e Giano dopo ciao ragazzi benvenuti a Favignana bene dove siamo a CrossFit? Ottimo di coach Giuseppe e Giano bene grande dentro dentro vabbè dentro 15 minuti comunque no un minuto a fare cancella questa cancella taglio tutto taglio tutto eh sì faccio tutto allora quindi in 15 minuti devo fare più giri possibili di questo ok l'aslo seduto quindi 25 rep di ginocchio al petto partiamo dalla sbarra quindi scendo dalla sbarra vado a fare la corda qui lontano dalla sbarra ok? ritorno alla rack vado a fare wall ball allora 25 come mi divido ragazzi non è perché il primo giro mi sento un supereroe ne posso fare a broker 25 ne faccio 5 più 5 più 5 più 5 più 5 se voglio fare i toast to bar edo alla fine ragazzi abbiamo i wall ball ok? quindi i wall ball sono 15 8 e 7 fa 15 oppure 10 più 5 fa 15 ok? divido ok? altri 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 avete 15 minuti non è 5 e 10 è 15 dopo ripiattiamo ci riprendiamo e c'è un lavoro di accessori cosa vuol dire che lavoriamo un gruppo muscolare ok il braccio voglio che il coach con il coach accessori poi voglio che il mio allievo davanti a me lavora nello specifico una parte del muscolo in questo caso il bicipite e la spalla e lavabracci indirettamente ok quindi poi con il piangere vuoto andiamo a lavorare le braccia il lavoro di accessori 12 questo e poi facciamo stretching domande chiaro le domande e mom a 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed eccoci a San Vitolo Capo, seconda tappa di Dameson Tour. Abbiamo lasciato Favignana, abbiamo lasciato CrossFit Egadi ed eccoci qui in quest'altro contesto siciliano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una settimana di sport, quindi da lunedì a venerdì abbiamo fatto le classi delle ore 18 insieme ai ragazzi di Giuseppe Gianno. Che dire, contesto meraviglioso, un box all'aperto, unico sicuramente in Italia e nelle isole Egadi. Giuseppe Gianno, un owner, tutto fare, eh Carlo? Si fa tutto lui. Si fa tutto lui. Fa tutto, multitasking. Marketing, marketing, accoglienza, programmazione. veramente, veramente come sempre ci siamo trovati a casa, accolti, i suoi ragazzi, ragazzi simpaticissimi, motivati, Giuseppe Gianno un motivatore. E adesso dobbiamo capire a San Vito, lo capo, dove è allenarci, ma qualche indirizzo forse riusciamo a recuperarlo. Riusciamo a recuperarlo, quindi il team Dameson non ha mollato in questa settimana a Favignana. Cosa possiamo dire? Chi passa a Favignana e fa CrossFit o comunque vuole tenersi in movimento, lo stracconsigliamo, eh Carlo? Assolutamente. Bene, cosa conviveremo in questa settimana a San Vito Luca, con chissà, lo vedremo. A presto ragazzi! A presto ragazzi! A presto ragazzi!